Siamo qui in diretta dal Bombonera Club Stadium di Napoli, ingresso in campo, Super 8, Arenile, Invictus, formazione che fanno un loro ingresso in campo e adesso si chiedono lì al Centro e poi si chiedono a partire del campo per dare l'incontro con Alessandro Passarello e due capitani che stortigiano il tocco per la palla per il campo. Già! Sì! 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 Dove sta? Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.